Piccolo, è bello e funziona, soprattutto quando si parla di accoglienza. È la storia raccontata nell'ultimo numero della Voce, fascicolo diocesano di Toscana oggi. Protagonista è un gruppo di 15 senegalesi che dalle rotte mediterranee approdate in Italia sono stati ospitati in una struttura privata a Ponte Presale, in collaborazione con la confraternita di Misericordia di Badia Tedalda. Una bella mobilitazione che però non è finita qui. Il comune di Sestino ha sperimentato già da qualche decennio presenze multietniche che lavorano in ogni settore, dalla fabbrica all'assistenza agli anziani. E proprio a partire da questa esperienza è nato un percorso di coinvolgimento all'insegna dell'integrazione. È nato un contratto basato sul volontariato per impegnare i giovani senegalesi in lavori di manutenzione e di pulizia nell'ambito del comune di Sestino. Da mesi, a seconda delle esigenze, a gruppi gli immigrati lavorano non solo a Ponte Presale, ma in varie frazioni e nello stesso capoluogo di Sestino. Un percorso reso possibile proprio dalle stesse associazioni presenti nel territorio. Un segnale di grande civiltà e in controtendenza rispetto al clima che si respira spesso attorno all'arrivo dei rifugiati.